Si è conclusa in maniera inedita la seconda amichevole consecutiva della Fortitudo. A sette minuti dalla fine della partita, sul punteggio di 64-50 per Rieti, coach Matteo Bonicciolli ha chiesto la sospensione della partita per eccessiva stanchezza dei suoi giocatori. Già con le rotazioni molto limitate, privo anche di amici e di kill, oltre che di Robert Fulze, reduce dalla fatica della sera precedente nell'amichevole contro Imola, Matteo Bonicciolli ha chiesto e ottenuto, pur con qualche titubanza naturalmente, da parte del collega Nunzi, di far rientrare anticipatamente le squadre negli spogliatoi, la paura di poter incorrere in qualche ulteriore problema fisico dopo un precampionato davvero a singhiozzo per il bianco-blu, ha portato Matteo Bonicciolli a chiudere anticipatamente la partita, quando la sua fortitude era sotto di sé nel punteggio, ma poco cambia la situazione del tabellone quando si tratta di partite amichevoli, il segnale che la fortitude deve naturalmente ritrovarsi in questi sei giorni, per presentarsi pronta al Palacarniera di Udine deve ritrovare gli uomini che erano assenti per poter presentare il roster quasi al completo alla prima di campionato. Una conclusione inedita.